Buonasera a tutti! Bentornate qui con noi a A parte le carte e con l'arte che non parte, a parte la parte in cui parte, siamo qui con l'ospite di oggi, una delle menti più brillanti del panorama asiatico, definita brillantemente da una delle menti più critiche, ma al contempo meno critiche che il mondo dell'arte a cui prendiamo criticamente parte con false carte abbiamo mai visto, a parte me, a parte lui. Ma veniamo a lei, signor Bappuntato, cosa può dirci riguardo la sua ultima opera, o meglio, come è arrivato all'idea di concepire questo intero universo partendo soltanto dal concetto della coppia che scoppia come l'oppio dei poveri in piazza alla bomba e non troppo, a parte quando stroppia. Ecco, cosa può dirci riguardo questo progetto parzialmente descritto come pesante, patetico e praticabile? Grazie. Veniamo ora alla seconda domanda.